Spostiamo con la diretta sulla griglia di partenza dove ormai tutto è pronto per l'inizio della gara. In pochi istanti inizierà il Gran Premio, il grande favorito è Fabio Quartararo che scatta dalla prima posizione della griglia di partenza. Spostiamo con la 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 griglia di partenza. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.